Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Esce oggi nelle radio italiane è andata così il nuovo singolo di Loredana Bertè, scritto da Luciano Ligabue, che anticipa l'album Amici non ne ho ma mi che sì, in uscita il primo aprile, una collezione delle sue canzoni più belle ricantate in duetto con voci femminili come Emma, Patti Pravo, Elisa ed Alessandra Moroso. Intanto, qual è la sua canzone preferita se ne ha una di Loredana Bertè? Il mare d'inverno l'ha scritta Ruggeri ma l'ha cantata lei. Mi è piaciuta la sua interpretazione. E' bellissima, sì, e la luna bussò, sì. La sentivo, l'ascoltavo e l'ho anche vista. In che occasione? Mio marito suonava, dunque ero spesso a Milano e andava nei locali dei Navigli e così, dunque l'ho vista lì. No, di sua sorella sì, ma di lei no. All'Aleuridana Bertè è una rocchettara, no? Non mi piacciono i rocchettari. Tra i cantanti divenuti famosi negli anni 60, 70, 80, ce n'è uno che le è rimasto nel cuore più degli altri? Domenico Modugno. Poi non ce n'è più altri. Sì, ci sarebbe Massimo Ranieri, ci sarebbe Bobi Solo, ci sarebbe, però sono troppi. Quello che è nel cuore è Domenico Modugno. Celentano, Celentano, vabbè. Una canzone su tutte? Tutte, tutte, tutte Celentano, tutte. Ha avuto modo di... E Mina, e Mina. Celentano e Mina? Mina, sì, sì. Hanno fatto anche un disco insieme? Sì, certo. Ho anche sentito, del vero, andavo a sentirli quando ero giovane. Dico subito Mina, che è arrivata anche, è iniziato prima, ma è arrivata anche a quegli anni, giusto? Mina, diciamo che copre tutta la storia della musica. Sopra tutte le altre. Per venire più verso di noi, Elisa. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.